Oggi siamo qui presso la dolina carsica del Gurgo di fronte al Santissimo Salvatore. Il Movimento 5 Stelle vuole verificare se questa amministrazione, quella passata, ha messo in campo dei progetti per il recupero del Gurgo. Voi sapete che oramai non è fruibile da tempo, da parecchi mesi. Questa dolina carsica del Gurgo è utilizzata e visitata da scolaresche, da associazioni e per motivi turistici. Tutto questo ovviamente lo chiederemo a breve all'amministrazione attuale per capire che intenzioni hanno per ripristinare lo stato dei luoghi e per riaprire finalmente alla cittadinanza e non solo ai turisti questo fantastico patrimonio che è di nostra proprietà.